buongiorno e ben ritrovati ad ipocrate la medicina come professione oggi parliamo di glaucoma perché gennaio è proprio il mese dedicato a questa patologia ma vogliamo puntare riflettori soprattutto su quelle che sono le ultime novità dal punto di vista tecnologico in particolare per la diagnosi ma non vi svelo altro perché vediamo tutto nel servizio l'intelligenza artificiale come uno sherlock holmes della vista a caccia dei primi segnali del glaucoma per identificare il prima possibile la malattia ed intervenire precocemente per rallentare la progressione e conseguenti danni che possono arrivare anche alla cecità con questo obiettivo stanno lavorando gli specialisti del centro oculistico italiano di brescia l'università di modena reggio emilia e l'irx fondazione bietti di roma grazie ad una progettazione internazionale finanziato dalla fondazione svizzera velux stiftung che punta alla realizzazione di un sistema automatico contactless per lo screening e la diagnosi precoce della forma di glaucoma ad angolo chiuso il glaucoma è una malattia molto frequente secondo l'oms nel mondo ne sono affette circa 80 milioni di persone e 25 milioni circa sono quelle che hanno perso la vista del tutto o in parte solo in italia e glaucomatosi sono circa un milione ma una persona su due non sa di esserne affetta attraverso il progetto velux naka estimator noto no contact anterior chamber angle i ricercatori sono al lavoro per creare un algoritmo che possa consentire un giorno anche di fare lo screening ambulatoriale e il monitoraggio da remoto sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale in oftalmologia che iniziano a dare i primi risultati grazie al deep learning le cui potenzialità in ambito medico ad oggi sono state applicate ad esempio alla valutazione dei tumori al rilevamento della fibrillazione adriale e ai tempi di insorgenza dell'ictus in oftalmologia l'intelligenza artificiale in particolare il dl si sono rivelati utili nella diagnosi della retinopatia diabetica della degenerazione maculare legata all'età e della retinopatia del prematuro fino alla valutazione del glaucoma e proprio in quest'ambito la ricerca si sta evolvendo rapidamente per lo sviluppo di dispositivi evoluti realizzati grazie all'integrazione di competenze ingegneristiche e eucolistiche allora l'abbiamo sentito l'impiego dell'intelligenza artificiale sta aprendo davvero tante frontiere anche nel campo dell'oftalmologia e per approfondire questo argomento ci colleghiamo con il nostro ospite di quest'oggi dottore luciano 40 direttore scientifico del centro culistico italiano benvenuto dottor 40 buongiorno buongiorno a lei io partirei proprio da una definizione anche veloce del glaucoma per poi capire quanto importante poter accedere ad ad una diagnosi che sia più veloce e più precisa il glaucoma è una malattia a carattere progressivo che interessa essenzialmente le cellule nervose della retina questo determina delle caratteristiche degenerazioni proprio in queste cellule e comporta un'alterazione della capacità visiva spaziale problema del glaucoma che è una malattia totalmente asintomatica fino negli stati più avanzati e quindi il paziente se non si reca anche occasionalmente dall'oculista per una visita magari per il cambio occhiali o per la presbiopia non si accorge fino agli stati più avanzati della malattia di essersene di esserne affetto il glaucoma si divide in due grandi categorie glaucoma primario d'angolo aperto totalmente asintomatico come dicevamo oppure le forme da chiusura d'angolo più subdole perché difficilmente diagnosticabili e quindi se non è posta precocemente una diagnosi la malattia una diagnosi corretta la malattia può continuare ad andare avanti e portare fino alla cecità in questo ambito appunto siccome il go standard per effettuare la diagnosi di glaucoma primario d'angolo aperto o da chiusura d'angolo è la gonioscopia che è un esame complesso invasivo parzialmente invasivo e che è molto soggetto a una variabilità operatore dipendente in questo ambito abbiamo deciso di sviluppare un progetto correlato ad una strumentazione che è il NAC estimator che possa fare una buona valutazione dell'angolo iridocorneale indipendente dall'operatore collegato a un sistema di deep learning e di machine learning che permette appunto la diagnosi precoce di questa così subdola che è il glaucoma da chiusura d'angolo. Affinché questa metodologia diagnostica possa essere ampiamente utilizzata dovremmo aspettare ancora un po' oppure è imminente? Ad oggi abbiamo eseguito lo studio su un campione molto largo di soggetti normali proprio per fare apprendere all'algoritmo quale sia la normalità dell'angolo iridocorneale per poi passare a soggetti patologici. Abbiamo l'altro giorno ottenuto dall'IRCCS Fondazione Bietti di Roma parere favorevole dal comitato etico per iniziare appunto ad applicare la strumentazione su soggetti affetti da glaucoma e quindi penso che nel prossimo anno avremo già i primi risultati su pazienti glaucomatosi e la possibilità tramite uno sviluppo ingegneristico e miniaturizzazione dello strumento che ancora oggi è un prototipo di dimensioni accettabili ma non quello che vogliamo raggiungere appunto che sia la portabilità dello strumento e appunto saremo in grado di avere dati su un campione ampio di pazienti che ci daranno dati e quindi l'applicabilità su larga scala di questo tipo di strumento. Ci tengo a precisare che... Mi scusi, ci tengo a precisare che perché è importante avere degli strumenti che possano fare diagnosi precoce e spesso indipendentemente da un operatore esperto perché non tutti i paesi sono fortunati come il nostro dove c'è un sistema sanitario sviluppato ma soprattutto nei paesi del terzo mondo ma anche nel sud-est asiatico dove il glaucoma da chiusura d'angolo è estremamente prevalente è fondamentale poter porre un'iniziale diagnosi o comunque un sospetto diagnostico per poi riferire il paziente allo specialista che possa porre una corretta diagnosi e poi soprattutto gli opportuni presidi terapeutici per evitare l'evoluzione verso una disabilità visiva grave. Era proprio questo insomma che stavo per chiederle volevo capire quanto è fondamentale ottenere una diagnosi tempestiva precoce ai fini del trattamento cioè la domanda è prima si interviene migliori sono gli esiti? Assolutamente sì il glaucoma purtroppo è una malattia che determina un danno che è irreversibile quindi la precocità della diagnosi e la tempestività del trattamento sono fondamentali ricordiamoci che nel glaucoma da chiusura d'angolo a volte negli stati iniziali la semplice estrazione del cristallino quindi l'estrazione della cataratta è di per sé curativo in questi casi e quindi permette una restituzione di integro completa senza l'evoluzione appunto del danno anatomo funzionale e quindi la disabilità visiva che se no se procede può diventare estremamente grave. Quanto è diffuso questa patologia? Lo abbiamo detto, lo abbiamo anche sentito nel servizio però volevo capire se c'era una tendenza di genere cioè se questa patologia colpisce più le donne più gli uomini oppure è trasversale rispetto ai due sessi? Per par condicio no, purtroppo il glaucoma è una malattia più prevalente nelle donne anche se le forme della glaucoma da chiusura d'angolo sono più prevalenti in un fenotipo che è il fenotipo comunque di razza asiatica anche se ha una prevalenza piuttosto elevata anche alle nostre latitudini lo studio di Rotterdam, lo studio di popolazione di Rotterdam l'ha ampiamente dimostrato e in una condizione di ametropia oculare che è l'ipermetropia nell'ipermetropia l'occhio, il segmento anteriore dell'occhio è più piccolo l'aumento progressivo del cristallino e quindi eventualmente della cataratta restringe ulteriormente le strutture oculari anteriori e dà buon gioco al glaucoma di evolvere sì comunque il glaucoma è più prevalente nella donna rispetto all'uomo Prima lei ha precisato che è una patologia irreversibile quindi laddove la diagnosi non avvenga in modo tempestivo mi sembra di capire che ci siano pochi margini per un trattamento laddove invece la diagnosi arriva in tempo che cosa nella pratica si può fare per immagino fermare l'avanzamento della patologia? noi abbiamo il dovere in tutti gli stadi della malattia di intraprendere gli opportuni precisi terapeutici si parte da una terapia medica con dei colliri che servono a ridurre la pressione dell'occhio una terapia parachirurgica laser anche questa volta a un miglioramento del deflusso di questo liquido che determina la pressione oculare fino ai trattamenti chirurgici i trattamenti chirurgici che oggi hanno subito una forte accelerazione in termini di scarsa invasività parliamo di MIX, micro invasive glaucoma surgery che sono dei trattamenti poco invasivi e permettono dei buoni risultati da un punto di vista di outcome della chirurgia ricordiamoci che però se noi siamo molto tempestivi nella diagnosi riusciamo a diagnosticare presto avere un danno anatomo funzionale quindi in termini visivi di deterioramento del campo visivo modesto e quindi anche a fine di disabilità visiva avremo la possibilità di ridurre al massimo la disabilità visiva quindi la diagnosi precoce è sempre fondamentale perché purtroppo il glaucoma quando ha instaurato il suo danno questo è irreversibile il paziente ne paga le spese in termini di limitazione sia dell'attività lavorativa che delle attività che svolge normalmente tutti i giorni e allora è ancora più importante lanciare questo messaggio di prevenzione di fare dei controlli oculistici regolari proprio per poter far venire a galla questa patologia come anche altri quindi è proprio questo l'intento credo del dedicare un intero mese ad una patologia in questo caso il mese di gennaio al glaucoma quindi invitare allo screening invitare la popolazione alla prevenzione assolutamente sì il mese di gennaio è il glaucoma awareness month ma a marzo ci sarà la settimana mondiale del glaucoma è importante che tutti i soggetti almeno all'insorgenza della presbiopia quindi verso i 45-50 anni invece di recarsi solo dall'ottico a farsi prescrivere un paio di occhiali o comprare un paio di occhiali facciano almeno una volta una visita oculistica per vedere che non ci siano problemi correlati a queste o altre patologie e appunto avere la possibilità di avere una diagnosi precoce ed evitare sequelle anatomofunzionali gravi assolutamente allora speriamo insomma che dottor Quaranta quello che lei ha detto quest'oggi sia utile a chi magari ha già scoperto di avere questa patologia ma soprattutto a coloro che a volte si trascurano un po' trascurano un po' troppo la propria vista allora le ringrazio di essere stato nostro ospite quest'oggi grazie a voi buona giornata Ippocrate non finisce qui andiamo avanti cambiamo completamente argomento perché da quella che in un certo senso la salute fisica abbiamo parlato della salute dei nostri occhi passiamo a quella psicologica in particolare alle relazioni che all'epoca dei social network sono molto cambiate è cambiata la modalità di approcciarsi all'altro la modalità di vivere l'esperienza di coppia ma anche il ruolo della donna sulla scia a volte di ciò che fanno i VIP ma non voglio dirvi altro perché alcune curiosità le vediamo del servizio che abbiamo preparato per voi ad aprire le danze dei battibecchi tra ex in Italia sono stati Francesco Totti e Ilari Blasi a suon di Rolex e borse di marca ora lo scontro si è spostato in Spagna ed è da Gerard Piquet e Shakira con quasi 14,4 milioni di stream su Spotify in un solo giorno BZRP Music Session 53 di Shakira e Bizarrap si è già giudicato a successo record la canzone è diventata virale probabilmente anche grazie ai riferimenti diretti all'ex marito richiami così esplici da aver ispirato anche un nuovo titolo Revenge Song hai scambiato una Ferrari con una Twingo hai scambiato un Rolex con un Casio canta Shakira non nomina direttamente l'ex Gerard Piquet ma è chiaro che si riferisca a lui e soprattutto al fatto di averla preferita alla 24enne Clara Kia Marti pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura le donne non piangono più le donne fatturano dice ancora il testo della canzone una frase che pure ha ricevuto il benestare da parte di molte donne per replicare Piquet ha come Shakira ha scelto momenti tutt'altro che privati durante una diretta per lanciare Kings League il suo nuovo progetto sportivo che pure sta ammiettendo successi in Spagna ha mostrato l'orologio Casio che aveva al polso e ha annunciato Casio non sarà Rolex ma ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con la Kings League e tra le risale degli altri ospiti ha poi aggiunto questo Casio è per la vita lanciando stavolta una frecciata alla sua ex anche in questo caso i commenti social sono stati più che scatenati sono soprattutto le donne che rivendicano un nuovo ruolo nelle relazioni, nel mondo del lavoro e nella società insomma lo abbiamo sentito battibecchi che si sono consumati sui social e non solo a partire da la coppia Totti e Larry Blasi a finire alla storia d'amore di Shakira che addirittura ha dedicato una canzone al suo ex ma come sono cambiate le relazioni contemporanee proprio grazie alla diffusione dei social e soprattutto come è cambiato il ruolo della donna nella società e nella coppia lo chiediamo alla nostra prossima ospite di oggi la dottoressa Francesca Andronico psicologa, psicoterapeuta e responsabile del Centro Psiche Balduina benvenuta grazie, grazie dell'invito allora dottoressa io comincerei, sarei d'accordo, proprio dall'approfondire prima la figura della donna per poi arrivare al modo in cui si colloca anche nella coppia potremmo dire che la donna moderna, contemporanea e diversa da quella di un tempo? assolutamente sì, sono cambiati i modelli culturali sono cambiati anche i riferimenti che la donna ha, quelli che sono i suoi obiettivi quindi oggi sicuramente prevale il discorso della carriera dell'autoaffermazione che non passa più attraverso la famiglia la ricerca di un uomo, il matrimonio ma l'autoaffermazione è individuale quindi la donna si trova a confrontarsi alla pari con il maschio e questo crea non pochi problemi perché va a spostare l'asse della relazione di coppia quindi dell'equilibrio della coppia su modelli culturali non più tradizionali visto che lei è un'esperta anche di viaggio, di turismo sempre dal punto di vista psicologico e tra l'altro all'argomento ha dedicato anche un libro Esperienze di Viaggio nel quale fa delle similitudini e tira fuori dei personaggi tratti da un famoso poema mi riferisco alla Maga Circe e accanto anche a Penelope le donne di oggi sono più Penelope o più Maga Circe? Sicuramente le donne di oggi sono più vicine alla Maga Circe che però, poverina, ha avuto una brutta fama nella storia perché il modello tradizionale vede la Penelope che pazientemente aspetta il marito tessendo e disfacendo la sua tela quindi stando ai tempi dell'uomo che l'uomo è il re e lei è il secondo piano ha un gradino sotto oggi invece la donna è più Circe cioè si mette al pari del suo uomo e quindi contratta, negozia e addirittura anche rispetto a Ulisse Ulisse è un eroe ma la Maga Circe è una maga e quindi discende dal nipote del sole del dio del sole e quindi ha anche una posizione come dire più rilevante e quindi come vediamo anche nel caso di Shakira ha anche un potere economico per certi versi maggiore rispetto all'uomo e questo sicuramente mette in crisi i maschietti moderni infatti proprio tornando a Shakira perché poi abbiamo introdotto diciamo la nostra conversazione con un servizio dedicato quasi esclusivamente diciamo a lei, alla sua canzone e anche alla reazione poi che ha avuto l'ex compagno il fatto che lei punti il dito su una frase in particolare le donne non piangono più, fatturano che cosa vuole dire effettivamente con questa frase? perché fa emergere il potere economico femminile? dunque il senso che lei vuole dare a questa affermazione è di dire esattamente che come dire da un evento che l'ha ferita l'ha distrutta emotivamente lei che cosa fa? ne trae un beneficio quindi in qualche modo al di là delle diciamo delle frecciatine insomma non neanche troppo velate che fa nei confronti dell'ex secondo me il forte messaggio che dà è proprio come dire ok mi hai ferito mi hai fatto male sono stata male ma io sono talmente forte anche più forte di te che da questo dolore ne trago un profitto un vantaggio un profitto anche economico quindi il senso è esattamente questo e credo che sia questo che mette in crisi proprio il maschio moderno cioè non è tanto il potere economico o l'affermazione o la come dire la rilevanza mediatica ma proprio il fatto che le donne anche questo biologicamente essendo come dire programmate per essere madri hanno una competenza sociale relazionale anche creativa sicuramente che non è paragonabile a quella a quella del maschio senza nulla togliere agli uomini però anche da un punto di vista neurobiologico il cervello dell'uomo e il cervello della donna sono molto diversi quello dell'uomo è più grande ma ha meno connessioni tra un emisfero e l'altro mentre quello della donna è più piccolo ed è iperconnesso tra un emisfero e l'altro quindi nella presa di decisione le donne sono in grado di prendere in considerazione sia aspetti emotivi relazionali di quella che è appunto la famosa intelligenza emotiva sia aspetti più concreti e quindi in qualche modo la frase va a sottolineare proprio questo cioè del fatto che le donne hanno una una marcia in più proprio per questo motivo perché sono in grado di cogliere anche aspetti relazionali e quindi in questo caso di trasformare un dolore in un profitto anche economico dottor Sandronico forse qualcuno da casa ce ne vorrà perché sembra un confronto un po' inico perché siamo due donne che parlano e che non parlano poi tanto bene degli uomini no non è questa insomma la finalità si dice scherzosamente che le donne sono in grado di fare più cose contemporaneamente che l'uomo ne possono fare una per volta poi insomma che ci sia un riscontro biologico scientifico questo può essere da vedere però tornando a quella che è la nostra argomentazione abbiamo visto sempre nel servizio che questo battibecco tra Shakira e il suo ex si è consumato non propriamente sui social ma prima con una canzone di fama mondiale che ha conquistato tantissimi consensi e poi lui addirittura ha risposto sempre pubblicamente durante un evento importante diciamo per la sua carriera ovviamente se ci riferiamo alle persone comuni alle persone come me come lei possiamo immaginare che eventualmente il battibecco di una relazione si possa consumare sui social network ecco tutto questo però può avere anche dei rischi per la vita privata perché poi non tutto deve essere reso sempre necessariamente pubblico sì assolutamente diciamo che oggi sono cambiati i mezzi di comunicazione di conseguenza i VIP come dire erano sempre esposti a un'attenzione mediatica sulle riviste e oggi i social network permettono anche alle persone comuni come dire di essere visibili però che cosa accade che mentre i personaggi pubblici come dire hanno per loro mandato quindi mettono in conto il fatto che la loro vita privata sia poco privata e per le persone comuni che non sono appunto personaggi pubblici questa sovraesposizione può alledere quello che Masut Khan che è un famoso insomma psicanalista chiamava lo spazio privato del sé cioè quel nucleo inviolabile che è un aspetto della nostra personalità oggi noi non ci rendiamo conto che in qualche modo esponiamo tutti i nostri dati più sensibili no alla rete e quindi questo sicuramente ha una ripercussione poi forse lo vedremo insomma tra qualche anno sulla nostra identità non a caso insomma i ragazzi che sono i nativi digitali che vivono sui social hanno sicuramente delle crisi rispetto a quello che è il mondo di distinzione tra il mondo reale no e quello e quello virtuale oggi c'è difficoltà a comprendere che appunto la vita reale nello spazio privato le relazioni intime devono rimanere nello spazio del privato beh su questo diciamo che ci sono anche discussioni che poi diventano ancora più complesse se per esempio si parla di metaverso che questo è un altro capitolo che potrà davvero cambiare le nostre menti ce ne siamo occupati insomma però sono tanti gli interrogativi che si aprono ma rimanendo in quelle che sono diciamo le relazioni attuali e quelle che sono le possibilità che abbiamo di relazionarci nel mondo reale così come nel mondo virtuale si crea un problema secondo lei dottoressa quando nella coppia soltanto uno dei due è così esposto parlo delle persone comuni non dei VIP ovviamente cioè nel senso magari una persona che è più abituata a usare il social network e il compagno o la compagna che invece magari non ha proprio un profilo virtuale sì indubbiamente questo ha anche a che fare con aspetti della personalità ripeto i social network sono dei mezzi ci sono persone che per indole per caratteristiche per temperamento sono più portate all'estroversione quindi all'esposizione hanno degli aspetti di socialità quindi come dire amano esporsi e invece altre che sono più introverse che sono più intimiste indubbiamente questo può portare un problema rispetto a quella che è la comprensione di quello che fa l'altro nel senso che magari chi non usa questi mezzi può vedere questa sovraesposizione come una necessità di essere in vista di di avere dei fan di in qualche modo di avere consenso quando non in tutti i casi è così cioè magari è semplicemente un riversare anche nel appunto nella rete quello che è un'attitudine personale diciamo che nelle relazioni di coppia non ci sono regole ben precise perché lo dice anche la psicologia ingenua cioè da una parte si dice gli opposti si attraggono e dall'altra chi si somiglia si piglia quindi come dire la verità in realtà sta sempre nel mezzo indubbiamente persone con un carattere troppo simile sicuramente hanno degli scontri ma è anche vero che due persone con un carattere troppo diverso hanno difficoltà a trovare dei punti in comune diciamo che la regola aurea per far funzionare una coppia è sempre l'equilibrio e quindi ognuno dei due negozia quelli che sono gli aspetti egoici cioè della propria personalità per andare incontro all'altro ovviamente questa è una scelta condivisa e quindi deve essere fatta in due cioè le coppie le relazioni funzionano se tutti e due come dire hanno lo stesso obiettivo altrimenti indipendentemente dal carattere indipendentemente da tutta una serie di fattori anche sociali culturali professionali è inevitabile che la relazione si rompa e quindi per concludere tornando diciamo alla nostra similitudine quella di Penelope della Maga Circe la donna moderna contemporanea dottoressa Andronico ha già risposto più Maga Circe ma anche qui dovrebbe mediare e tornare anche un po' a Penelope oppure non c'è bisogno? sì sicuramente su certi aspetti no dovrebbe tornare un po' a Penelope però anche insomma l'uomo dovrebbe essere un po' meno Ulisse perché insomma Ulisse era un po' mascalzone diciamo con una donna in ogni porto quindi se la donna moderna quindi se la Maga Circe come dire rinuncia a essere un po' Circe anche l'uomo però deve rinunciare a certe cose come dicevo la negoziazione vale per tutte e due se no è troppo comodo no? come dire che la donna rinuncia a certe cose e l'uomo rimane nella sua posizione di predominanza rispetto alla donna quindi ripeto o si è in due oppure insomma tanto vale che ognuno faccia la sua vita e segue i suoi modelli e Circe rimane nel suo palazzo e Ulisse rimane insomma sulla sua nave quindi se trovano un compromesso vanno vanno insieme altrimenti ognuno ognuno nel suo magari al modello maschile potremmo dedicare un altro appuntamento però diciamo che molti fatti ci raccontano che un po' l'atteggiamento dell'uomo anche nella gestione della famiglia sta cambiando e che effettivamente c'è una ripartizione dei ruoli dei compiti un po' più equo allora io ringrazio la dottoressa Andronico per essere stata qui con noi grazie grazie a voi è sempre un piacere essere qui ringrazio anche i nostri telespettatori che spero abbiano tratto vantaggio da questa nostra conversazione di oggi o comunque qualche nuovo spunto per migliorare la propria relazione allora vi ringrazio ancora e vi ricordo che Ippocrate e la medicina come professione torna puntuale tutti i giorni sempre su questa rete alle 13.30 vi aspettiamo non mancate intanto buona giornata grazie a tutti